Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live serale. Benvenuti in questa live serale. È il tema che ho deciso di trattare, un po' quello del potere e dell'intenzione. L'intenzione è un po' la forza di volontà, potremmo dire. Anzi, quello che in realtà è molto di più della forza di volontà, però potremmo iniziare a definirla come forza di volontà. Quindi l'intenzione è la capacità che noi abbiamo di focalizzarci su un obiettivo. Ma in realtà questa focalizzazione, intanto saluto un po' di persone, Eli, Johnny, Zeta, al 77, in realtà la focalizzazione dell'obiettivo è qualcosa di più, cioè l'intenzione va a creare in realtà ciò che andiamo a sperimentare. Quindi c'è questa differenza tra quella che una volta veniva chiamata la forza di volontà, che è comunque un po' il muscolo della mente, perché la volontà e la determinazione sono comunque importanti. La volontà è il volere qualcosa, ma non soltanto volerlo a livello mentale. Io voglio una cosa, però poi di fatto non faccio niente per raggiungere questa cosa. La volontà è il potere volitivo, quindi voglio una cosa e agisco con determinazione per fare, per raggiungere questo obiettivo. Quindi la determinazione è la cosa fondamentale che va unita, diciamo... ho controllato YouTube, ha scambiato la mia impostazione di ricevere le notifiche. Ma non è che YouTube l'ha cambiata, Elena Spine l'avrei cambiata, tu clicchi sulla campanella, non è che lo fa... tu clicca sulla campanella e... no, questo per dire... no, le notifiche, già che non le manda tutti, però per avere più probabilità di ricevere le notifiche bisogna cliccare sulla campanellina. Cliccate sulla campanella e riceverete più notifiche. Non le manda sempre, ma non è che YouTube ti cambia le impostazioni. dovete attivare la campanella per le notifiche, attivate la campanella. Allora, quindi, infatti vedo poche persone connesse, quindi direi che... Allora, quindi, riprendiamo il discorso sull'intenzione, no? L'intenzione si differisce, differisce, potremmo dire, dalla... dalla volontà perché è un qualcosa di più profondo. Adesso arriveremo a capire che cosa è l'intenzione. Ma già la volontà aiuta molto nel raggiungimento dei nostri obiettivi, quindi col termine volontà si intende... Non ho detto che sei scema Elena Spini, però alle volte può succedere di toccare la campanella senza accorgersene. Non è che YouTube di suo... Se tu attivi la campanella, la campanella ti resta attiva. Poi può succedere che magari uno tocca, mentre tocca... Anche a me è capitato alle volte la campanella, basta sfiorarla e toccare il canale, non è che uno lo fa apposta, però può succedere. Basta che clicchi sulla campanella e la lascia attiva. Io non so che tocchi quello che vuoi, però comunque la campanella da sola non se ne va. Cioè, questo non è che YouTube... Figurati se YouTube cambia le tue impostazioni, cioè... Come dire, è una cosa assurda, no? YouTube non cambia... Sennò non metterebbe la possibilità di impostare quello che vogliamo. YouTube non te le cambia le impostazioni. Con una svista puoi cambiarle tu, ma sicuramente YouTube non va a cambiarle. Intanto saluto Maria Ramela, Viviana, Lady... Ma YouTube non cambia le impostazioni delle persone? Figurate se YouTube cambia le impostazioni. Ma non dire queste cose. YouTube non cambia... Se tu imposti la tua... Il tuo... Che poi a tutti quelli che hanno la campanella non arrivi la notifica, è quello un altro discorso. Non so se è un barco di YouTube... No, non è che la gente non riceve le notifiche. Non è che YouTube sposta... Allora, cercheremo l'ultima volta e poi vado avanti col discorso. Ma YouTube non gli frega niente di impostare. YouTube non cambia le impostazioni. Non ha senso che cambi le impostazioni, perché il fatto che manda le notifiche è un servizio che dà. Che poi questo servizio non venga, diciamo, erogato nel modo giusto, ma se tu hai attivato la campanella, hai più probabilità di ricevere la notifica. Quindi attiva la campanella. Va bene. Ok, Elena Spini, non so cosa dire. Se tu pensi che YouTube ti cambia le impostazioni della tua campanella, secondo me sei fuori strada. Che poi non mandi le notifiche anche se hai l'impostazione. Comunque, dai, riprendiamo questo discorso. Comunque, attiva la campanella e via. Sì, anche le volte con la campanella attiva, magari la notifica non arriva. Comunque, anche se uno attiva la campanella e poi finiscono il suo discorso, le notifiche non arrivano. Non so se è un barco di YouTube. Ma le impostazioni non è il tuo amico immaginario, non te le cambia YouTube. Se tu attivi la campanella e poi magari ti sbagli e la tocchi, se la disattivi, non ti cambia le impostazioni. Questo dobbiamo tenere presente che YouTube non cambia le impostazioni. Però magari non manda il fantasma di YouTube. Comunque, dai, andiamo avanti col discorso. Riprendiamo il discorso, sennò siamo tutto il tempo a parlare di impostazioni e basta. Allora, riprendiamo il discorso sulla volontà. Quindi la volontà è la capacità di desiderare qualcosa, di volere qualcosa, una forza volutiva e di agire per raggiungere quell'obiettivo. Sembrerebbe una cosa banale, sembrerebbe una cosa banale. Ma non è così banale questa cosa, non è così banale. Per quale motivo non è così banale? Non è così banale perché per esercitare la volontà servono due cose. Uno è la capacità di superare gli ostacoli, perché comunque di fatto la vita ci pone degli ostacoli. Quindi esercitare la volontà, esercitare l'intenzione implica la capacità di superare le difficoltà. Le difficoltà della vita. Ora, le difficoltà della vita sono problemi quotidiani. Ti può succedere che, che ne so, ti capiti, fai un incidente con la macchina, ti si rompe il bagno, che ne so. Può succedere, sono le difficoltà della vita. Ora, una delle caratteristiche delle persone che hanno successo è quella di sapere affrontare le difficoltà della vita, superare le difficoltà. Questi normalmente sono i problemi di vita quotidiana che ci vengono offerti, fondamentalmente perché siamo in un purgatorio e non siamo nel paradiso. La seconda capacità che richiede, diciamo così, necessaria per superare e per raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere è invece il credere, la nostra capacità di conquistare, la capacità di conquistare l'oggetto di desiderio che ci interessa. Perché le difficoltà sono degli elementi esterni che si frappongono tra noi e l'oggetto di desiderio. È un po' come dire, potremmo dire la sindrome di Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta si amavano tanto, ma c'erano di mezzo degli ostacoli. Gli ostacoli erano costituiti dai genitori, dalle famiglie in questo caso, che volevano impedire e ci sono riusciti. Quindi Romeo e Giulietta non hanno coronato il loro sogno d'amore perché non sono riusciti a superare le difficoltà che la vita gli ha offerto, in questo caso le difficoltà familiari. Questo è il primo punto. Invece abbiamo poi la capacità di conquistare, la capacità di conquistare potremmo definirla come la sindrome di Dante Beatrice. Ma lo so che è solo una storia, è un esempio, è un esempio. Sto facendo un esempio. Potrei dire che ne so Mario Rossi e Francesca Verdi. Siccome la storia di Romeo e Giulietta la conoscono tutti, utilizzo questa per far capire che loro si amavano tanto. Non era l'oggetto di desiderio che non funzionavano. Le difficoltà della vita cosa potrebbero essere? Potrebbero essere un lavoro, ad esempio, che ti spinge. Molte persone mi dicono, che ne so, loro si amano tanto, lui riceve una proposta di lavoro per andare all'estero per degli anni e questa persona, che tra l'altro, forse ogni tanto è anche in chat, ha scritto in un gruppo. Questo è uno dei, diciamo, è una delle caratteristiche del fatto di non saper risolvere le questioni. Questo è un problema esterno che ti impedisce di raggiungere quello che tu desideri. Quindi superare le difficoltà della vita. Sembra così banale, ma non è poi così banale. Per superare le difficoltà della vita serve solo una cosa, serve determinazione. Senza determinazione non riusciamo a superare le difficoltà della vita. Serve la capacità di trovare la forza di superare gli ostacoli, non fermarsi, trovare sempre una soluzione. Ecco, vi dico questo, chi non sa trovare le soluzioni, vive di demotivazione. Le difficoltà della vita portano, per chi non lo sa fare, portano la demotivazione. Demotivazione cosa vuol dire? Demotivazione vuol dire che Maria Lamela sia ancora leggermente un po' raffreddato. Demotivazione vuol dire che non sei in grado, non hai un motivo valido per andare avanti. Perdi motivazione. La motivazione è energia, è un motivo all'azione. Non sapere affrontare gli ostacoli porta a demotivazione. Nel momento in cui scatta la demotivazione, praticamente hai già perso. Hai già perso perché non sai più affrontare una nuova battaglia. D'altra parte, chi è che vince la guerra? Vince la guerra non tanto chi vince una battaglia, ma chi vince l'ultima battaglia. Chi vince l'ultima battaglia è colui che vince la guerra. Ma l'ultima battaglia la vince soltanto chi non si arrende. Perché se tu ti arrendi, perché se tu ti arrendi non riesci a vincere l'ultima battaglia. Quindi la capacità di affrontare, potremmo dire, i problemi della vita vuol dire non arrendersi mai. Vuol dire, leggevo qualcuno che parlava di scuola di calcio, io non seguo il calcio, però la capacità di non arrendersi mai vuol dire ti giochi la partita fino all'ultimo secondo di recupero. Non è che se te perdi 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, quando manco un quarto d'ora, dici vabbè, tanto ormai ho perso, mi fermo. Perché allora vuol dire che è subentrata la demotivazione. Invece bisogna giocare fino all'ultimo, fino all'ultimo secondo. E è importante per noi, cosa vuol dire sono più autorevole di te? Che vuol dire autorevole? Comunque, tornando al discorso precedente, noi dobbiamo essere motivati ad agire, noi dobbiamo essere motivati ad agire dal primo respiro, dal primo vagito che mettiamo fino all'ultimo respiro. Quindi le persone che si arrendono davanti ai problemi, purtroppo, video sull'orologio, le persone che si arrendono davanti ai problemi non hanno possibilità di riuscire a ottenere il risultato che vogliono ottenere. L'orgoglio, cara Daphne, se tu ferisci nell'orgoglio una persona, soprattutto se è una persona logico-razionale, soprattutto se è una persona logico-razionale non hai possibilità di, come dire, che questa persona ritorni sui suoi passi. L'orgoglio è un meccanismo di difesa, è un meccanismo di difesa che salvaguarda la dignità. Perché se una persona è ferita nell'orgoglio non non ha la dignità salvaguardata, per cui è la nostra coscienza che rafforza l'orgoglio. Quindi, allora, bisogna sempre avere la forza di guardare. Intanto saluto Tania Grandi, che dal suo metro e quindici ci saluta, Jessica Naturopata, Ciuto. Quindi questo è fondamentale, avere la forza di… E come possiamo… Leggevo Eli Venceslao, mi arrendo… Allora, arrendersi non vuol dire che non devi cambiare obiettivo o che non puoi cambiare obiettivo. Cioè non dobbiamo fossilizzarci su Mario Rossi, dobbiamo vedere le cose un po' più in grande. Dobbiamo vedere le cose un po' più in grande. Noi dobbiamo avere degli obiettivi esistenziali di vita, a medio e lungo termine. È importante avere degli obiettivi esistenziali. Obiettivi esistenziali su cosa? Beh, dipende, non lo so, sul tipo di vita che si vuole fare. Vuoi figli, non vuoi figli, vuoi famiglia, non vuoi famiglia. Devi darti degli obiettivi esistenziali che sia a lungo termine, a medio e a lungo termine. Poi le cose possono cambiare, però un punto di partenza devi definirlo. Un punto di partenza lo devi definire, no? E questa è la cosa fondamentale. Una volta che tu ti sei dato un obiettivo, se il tuo obiettivo è crearti una famiglia, ad esempio, parlo Eli Venceslao, non so se è il tuo caso, ma se fosse questo l'obiettivo, e incontro una persona che non è in grado di soddisfare quell'obiettivo, quella persona lì va lasciata e ne va trovata un'altra. Cioè gli oggetti di desiderio sono degli strumenti per raggiungere i nostri obiettivi, non devono diventare gli obiettivi stessi. Ecco, questo è il primo concetto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Differenziare l'oggetto di desiderio dall'obiettivo. L'obiettivo, se noi vogliamo ottenere un obiettivo, deve essere un obiettivo esistenziale, deve essere un obiettivo esistenziale, non un oggetto di desiderio. Perché è ovvio che l'oggetto di desiderio non è controllabile più di tanto. Cioè se io voglio dire, il mio oggetto di desiderio è Elena Spini, per fare un esempio, vedo il nome di Elena Spini davanti. E piantala di rompere però Elena Spini, le tue competenze informatiche, su. Smettiamola con sto discorso. Allora, quindi se il mio oggetto di desiderio è Elena Spini, per fare un esempio, se non rompe le palle con la campanella, perché questa campanella Elena Spini la tocchi tu, non è YouTube che ti cambia le notifiche, quindi non rompere, lo farai di notte in sonnambulismo, non lo so quando lo fai, ma sei tu che tocchi questa campanella. Quindi silenzio. Sitz, Elena Spini, sitz! Quindi plaz, sitz! Quindi se il mio oggetto di desiderio è Elena Spini e mi tocca quello che vuoi Elena Spini, tocca quello che vuoi, non mi interessa cosa tocchi, basta che sitz e plaz, e zitta. Io ho già perso in partenza, perché vado a delegare a Elena Spini il mio successo o il mio successo, se fosse Elena Spini il mio oggetto di desiderio. No, il mio oggetto di desiderio non deve essere una persona, un oggetto, deve essere una situazione esistenziale. A livello esistenziale, che cosa voglio? Voglio avere una relazione? Non voglio averla? Che tipo di lavoro voglio avere? Cosa voglio fare? Qual è il tipo di vita che voglio vivere? Questa è la cosa fondamentale. Avere una visione a medio-lungo termine su quello che noi vogliamo sperimentare, perché poi in realtà la vita è una sperimentazione che facciamo con il mondo stesso, cioè noi ci mischiamo con l'universo vivendo. Ecco, potremmo definire un… potremmo definire, diciamo… potremmo definire… guarda la sua destra… ma Silvia… Silvia Sissili… ma sì, perché alla mia destra c'è qua c'è qua una donna nuda che fa lo spogliarello, Silvia Sissili. Ogni tanto guardo perché me la tengo lì, le faccio fare lo strip mentre faccio la live, è per questo motivo che ogni tanto la guardo. Io ce l'ho tutte qua in casa, ogni tanto una margassona, una margassona. C'è Bacheca, c'è Bacheca, ciao Bacheca! C'è Bacheca qua alla mia destra e mi sta facendo lo spogliarello, mi distrae ogni tanto, allora ogni tanto la guardo. Qua uno non può fare niente, guardo lì, c'ho il soprammobile, c'ho la piantina. Va bene, comunque andiamo avanti. Stiamo facendo la lap dance, è vero, la uso per meditare, esatto. è Bacheca, è Bacheca, è venuta Bacheca. Allora, tornando al discorso precedente, quindi noi dobbiamo tenere presente, e no, te l'ho detto, c'è una donna che sta facendo lo spogliarello, Silvia Sissili, ogni tanto la guardo, ogni pezzo che toglie butto un occhio, poi dopo ritorno a guardare tra voi. Allora, tornando al discorso precedente, quindi, è Bacheca che sta facendo la cosa. Le ragazze cin cin. Allora, esatto, esatto, qua è tutto un processo all'intenzione, comunque, no, ma poi è troppo forte, è troppo forte Silvia Sissili, perché, diciamo, col nuovo pusher non è migliorato, non è migliorato. Sì, sono con la spogliarellista, però rinuncio alla spogliarellista per farvi la live, quindi dovete essere contenti. Allora, vado avanti. Ecco, dicevo, se io mi concentro su Elena Spini, ad esempio, e senza avere un obiettivo esistenziale, praticamente ho già perso. Comunque, vada la cosa, ho perso, perché se mi andrà bene la situazione con Elena Spini, temerò di perderla. Se la situazione con Elena Spini mi andrà male, comunque tenderò a fortificarmi la demotivazione. La demotivazione. Ora, le cose con Elena Spini poi possono andare male, ripeto, per due motivi. Il primo motivo può essere quello legato al fatto che non ho la sufficiente determinazione, quindi motivazione, a fare le cose. E la seconda situazione è dovuta al fatto che invece non sono in grado di conquistare. Il fatto di non essere in grado di conquistare risiede in due pensieri nefasti che spesso facciamo. Il primo è di essere incapaci, di essere incapaci di conquistare. Il secondo è di essere soggetti a disgrazie. Se tu pensi che ti capitano tutte le disgrazie, è ovvio che non ti senti incapaci di conquistare. Quindi, l'intenzione, invece, l'intenzione, il potere dell'intenzione, come dicevo prima, si manifesta nella nostra... Che fai? La spam? Jessica Naturopatra, fai la troll? Jessica Naturopatra, fai la troll? Quindi l'intenzione, l'intenzione si manifesta, l'intenzione si manifesta con la nostra determinazione e la nostra capacità alla conquista. Alla conquista, però, non di un oggetto di desiderio. Ecco, la cosa fondamentale è questa. Non... Beh, le disgrazie, ad esempio, ci sono persone che credono di essere sfortunati, che l'universo ce l'abbia con loro, no? Come dire... E poi fanno tutte delle cose che li porta... Fa sì che l'universo ce l'abbia con loro. Questo per rispondere a Stella Marina. Se tu credi di essere sfortunata, metterai in atto dei comportamenti che ti faranno capitare a degli eventi sfortunati. Te ne andrai in giro di notte per i vicoli di Genova e poi ti lamenterai del fatto che ti hanno rapinata. E quindi pensi di avere disgrazie. Ogni cosa che ti capita è una disgrazia. Perdi il treno e l'universo che ce l'ha con te. Quindi questo ve lo dico subito chiaramente. Ve lo dico chiaramente. L'universo non ce l'ha con voi. Anzi, non ne frega una mazza di voi. L'universo è un campo di energie. L'universo è un campo di forze. Sono leggi, non sono cose ad personam. Quindi noi dobbiamo tenere presente questo. Quindi l'intenzione la possiamo manifestare se non ci arrendiamo mai. Quindi dal primo vagito all'ultimo respiro noi dobbiamo perseguire e continuare a insistere cercando di sviluppare delle credenze profonde che ci permettono di andare avanti. Le credenze profonde che dobbiamo sviluppare e dove agisce l'intenzione. Perché esistono due tipi di giochi fondamentalmente che noi possiamo fare che sono mediati un po' dalla seduzione. Sono l'inner game e l'outer game. Adesso non c'è la cagnolina canetti che sennò direbbe subito la cosa in inglese. Secondo me l'universo complotta per il nostro meglio? Ma l'universo non complotta né per il meglio né per il peggio. L'universo è l'universo. Noi facciamo parte dell'universo. Tanto noi non siamo un qualcosa di strano all'universo. Un altro errore che si fa spesso è credere che l'universo sia qualcosa di esterno a noi. Noi non possiamo percepire nulla di esterno a noi che non sia dentro. Pensate, oggi stavo vedendo proprio un video che mi ha mandato Maria Lamela. Comunque non dice nulla di nuovo, ma comunque è interessante. Pensate al senso della vista. Quello che noi vediamo in realtà non c'entra niente con la realtà. Non c'entra niente la realtà con quello che noi vediamo. Quello che noi vediamo è semplicemente un'interpretazione del nostro cervello di fotoni che arrivano attraverso il nervo ottico alla parte del nostro cervello deputata al senso della vista. Non c'entra assolutamente niente. Non c'entra assolutamente niente. Ma che fa Silvia Sisseli? Silvia Sisseli. No, perché Silvia Sisseli ogni tanto è forte, Silvia Sisseli, perché mi attribuisce sempre fidanzate diverse. Mi attribuisce sempre fidanzate diverse. È divertente, è divertente Silvia Sisseli. Io mi diverto con Silvia Sisseli. Mi diverto, mi diverto. Perché c'è stato il periodo in cui ero fidanzato con la Canetti. Poi c'è stato un periodo in cui ero fidanzato con la mamma della Canetti, secondo Silvia Sisseli. Poi c'è stato un periodo in cui ero fidanzato con la nonna della Canetti. Poi la famiglia Canetti è stata accantonata e mi ha trovato un'altra fidanzata che non so chi fosse, l'altra fidanzata che mi attribuisce a Silvia Sisseli. Bacchèca è l'ultima, Bacchèca è l'ultima. Però prima di Bacchèca ce ne sono state, adesso non mi ricordo più, perché ne ha cambiate talmente tante che non riesco neanche a ricordarmele. Mi ha cambiato talmente tante fidanzate, Silvia Sisseli, che non riesco neanche più a... Manco mi ricordo i nomi, insomma. Nella sua mente però me ne ha attribuite tantissime. È una monna lì. Ma la mamma della Canetti, la nonna della Canetti è stata forte però la cosa, insomma. Poi altre, altre me ne ha attribuite, ma non mi ricordo. Sì, me ne ha attribuite all'Amalgashona, esatto, all'Amalgashona, non so se... Toglietemi dai piedi questo, toglietelo, uccidetelo, uccidetelo. Siamo tutti rettiliani qua, caro Alessio, siamo tutti rettiliani. Sì. Ecco, essere molto motivati è importante. La motivazione è fondamentale. La motivazione è davvero fondamentale, la motivazione, perché se noi siamo motivati... Però è uno dei punti che serve nell'intenzione. La seconda parte che serve per stare bene fondamentalmente è quello di avere il distacco del risultato e di avere delle credenze profonde, profonde, non superficiali, sulle nostre capacità. Perché se una persona si reputa incapace, può anche essere motivata, ma non metterà a termine... Se uno si reputa incapace, sono motivato per dimostrare di non riuscire. Questa è un'altra caratteristica, no? Perché noi tendiamo a realizzare... Noi tendiamo a realizzare quelle che sono le nostre... Le nostre credenze, fondamentalmente, no? Quindi dobbiamo avere motivazione, quindi determinazione, per canalizzare questa energia su un binario, diciamo così, di credenze positive. E le credenze positive dobbiamo crearle dentro di noi. Le credenze positive dobbiamo crearle dentro di noi. Non c'è qualcun altro che ce lo può... Non c'è qualcun altro che ci può creare delle credenze positive. Questo è fondamentale. Noi dobbiamo avere delle credenze. Dicevo, abbiamo due tipi di giochi che possiamo fare, no? L'inner game, o il gioco interno, è quando io vado verso l'obiettivo. E poi c'è l'outer game, che non è da sottovalutare, è quando faccio venire l'obiettivo verso di me. L'outer game è il gioco esterno. Il gioco esterno cosa vuol dire? Perché devo mischiare l'inner game e l'outer game. Il gioco esterno è avere la capacità, diciamo, di conquistare, cioè di entrare in interdipendenza positiva con le cose che mi circondano. Entrare in interdipendenza positiva con le cose che mi circondano, con l'universo stesso. Entrare, direi, in simbiosi con l'universo stesso. Entrare in entanglement con l'obiettivo che voglio raggiungere. Ecco, la cosa fondamentale è entrare in entanglement con l'obiettivo che voglio raggiungere. Toglietemi sto troll, Gaetano, lì che è un troll. Levate sto troll, Gaetano, che mi saluti il fratello. Togliete sto troll. Qualcuno faccia secco il troll, Gaetano. Eccolo lì. Quindi dobbiamo... No, non sospendetelo, fatelo pure a secco, che è un troll. Qua fanno le domande idiotiche, che sono un troll. Quindi questo... E come facciamo a fare questo? Ecco, dobbiamo avere una corretta visione della realtà per fare questo. Stavo dicendo, noi non siamo distinti dall'universo. Quello che è il video che mi ha girato la nostra amica Maria Lamela, comunque non è che dice niente di nuovo, però, ha ricordato che, ad esempio, il senso della vista. Il senso della vista è soltanto un'interpretazione del nostro cervello di fotoni, di impulsi elettrici. Impulsi elettrici, non c'è, se ci pensate, molta differenza tra noi e il film Matrix, dove nel film Matrix in realtà erano tutti fermi lì che si immaginavano, ma in realtà funziona così. Noi siamo veramente dentro una... Non ci ne rendiamo conto, ma siamo veramente dentro una Matrix. Siamo veramente dentro una Matrix e all'interno di questa Matrix cerchiamo di agire non rendendoci neanche conto. La Matrix è l'universo, è l'universo stesso. Cioè, quello che noi percepiamo è soltanto un'interpretazione soggettiva. È come se fossimo dentro un film, praticamente. Non dice Max Steve, è veramente come se fossimo dentro un film. Soltanto, qual è la differenza? Che non ci rendiamo conto... Ecco, facciamo l'esempio proprio del cinema, del film. Se voi andate a vedere un cinema, voi sapete, vedete gli attori, ma sapete che quegli attori sono dei pixel, praticamente, o guardate, come dire, la televisione o un video su un computer. Sapete che in realtà sono soltanto dei pixel, sono soltanto un'immagine riprodotta. E noi facciamo in questo modo, anche noi siamo soltanto dei pixel, siamo un'immagine riprodotta, però invece crediamo di essere delle unità. E allora questo cosa ci porta? Ci porta ad arrabbiarci, ci porta a vivere dei veleni mentali, non ci porta a crescere. Salutiamo Lady Elvira! Ciao Lady Elvira! Buonanotte! Abbiamo anche la rana. Siamo una sorta di ologramma, soltanto che non crediamo di esserlo. Non crediamo di esserlo. Ma il fatto che siamo un ologramma non è che è un qualcosa di negativo. Ci dà diverse possibilità, perché ci fa capire che l'universo, e quindi noi stessi, siamo maleabili, siamo trasformabili. Possiamo muoverci, possiamo trasformarci. Siamo molto più, come dire, siamo un po' come il pongo. Vi ricordate il pongo che si poteva trasformare. E noi siamo così. Possiamo modificare le percezioni che abbiamo. Se viviamo in un ologramma, questo ologramma possiamo trasformarlo. E dobbiamo però avere il coraggio di trasformarlo attraverso il potere dell'intenzione. Dobbiamo avere veramente il coraggio di trasformarlo attraverso il nostro potere. Noi abbiamo questo grande potere che è il potere dell'interdipendenza, il potere dell'interazione. Quindi dobbiamo metterci veramente, come dire, un'intenzione, una volontà e un'azione, senza focalizzarci sugli oggetti di desiderio. Perché oggetti di desiderio sono in realtà semplicemente, come dire, uno strumento che ci serve, ci fanno da nave scuola fondamentalmente. Ma la vera partita, noi la vera partita, la giochiamo con noi stessi. La vera partita la giochiamo veramente con noi stessi. Quindi, ricapitolando, che poi chiudiamo questa live, mai arrendersi, ma non ossessionarsi dagli oggetti di desiderio. Non dobbiamo essere ossessionati. Oh, Roberta Flix, ciao Roberta! Non dobbiamo essere ossessionati dagli oggetti di desiderio. Dobbiamo veramente andare oltre. Dobbiamo veramente andare oltre. Oh, brava, Roberta Farina, ci vediamo venerdì 22. Brava, Roberta! Questo dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo e... Le intenzioni negative degli altri, se sono negative, perché noi le percepiamo. Noi non possiamo percepire nulla, che in qualche modo non è dentro di noi, ma è la mela. Quindi, cambiare un po' il nostro punto di vista, attraverso l'inner game, il gioco interiore, ci permetterà di cambiare ciò che andremo a sperimentare. Ma a proposito, la Margachona si è andata a dormire. Pongo per finire un'altra famiglia, ma il mio mi aspetta. Bene. Scopro l'antagonista. L'antagonista tuo, o tu scopri un'antagonista che mette a te. Mai antagonizzare con l'antagonista. Questo è il concetto di fondo. Mai antagonizzare con l'antagonista. Se tu scopri un antagonista, spingerlo verso l'antagonista. Ti vedo bene con quello. Perché non stai con quello lì? Spingere sempre verso gli antagonisti. Spingere sempre verso gli antagonisti. Spingelo verso quell'altra. Se è un'altra, spingelo verso quell'altra. Mai antagonizzare con gli antagonisti. Spingelo verso quell'altra. Digli, vai con quell'altra. Non roppami maroni. E devi essere contenta che vai con quell'altra. Spingelo verso l'altra. Bene. Ramses. Detto questo, vi ricordo gli appuntamenti. Il 22 a Torino. Il 22 a Torino. Il 22 a febbraio. Allora 20, 21, 20 e 45 a Torino. Per il corso sulla PNL. Proconvenzione neurolinguistica applicata alla seduzione e applicata al benessere. E poi, e poi, e poi, ho finito la live. Sono le 11.20, ho finito la live. E poi Milano, domenica 3 marzo, dalle 9.30 alle 19. E Roma, domenica 7 aprile, dalle 9.30 alle 19. Il riferimento è sempre al 333, 15, 11, 7, 0, 3. Sono anche i 40 minuti di live. Quindi un saluto a tutti. Un altro po' con voi. Dai, cazzeggio un altro po' con voi. Posso cazzeggiare un altro po' con voi? Faccio qualche domanda e risposta? Dai, qualche domanda e risposta la faccio volentieri. Un po' di cazzeggio con voi lo faccio volentieri. Violetta, Violetta, un po' di cazzeggio con voi. Lo faccio volentieri. 10 minuti di cazzeggio con voi. Roma il 7 aprile. Roma il 7 aprile. Gli argomenti li dirò a breve di Roma. Ho chiesto di mandarmi. C'è qualcuno che mi ha chiesto legge d'attrazione, ipnosi conversazionale. Se qualcuno avesse qualche idea di qualche argomento per Roma, visto che sto facendo il programma, mi scriva su Whatsapp. Mi scriva su Whatsapp. Beh, è regressiva. Possiamo vedere. Scriva su Whatsapp. Sai cos'è fascinante quando strigli? È un fascino micidiale. Il fascino... Oh, Stefano Gatto. Ciao Stefano Gatto. Il tuo sogno nel cassetto? Non ho cassetti, non ho cassetti. Vi toccate le cosce quando? Cosa vuol dire vi toccate le cosce quando? Maria Ramela, Maria Ramela. Beh, allora, toccarsi le cosce sono legate alla sfera sessuale, quello. Allora, se noi dividiamo il nostro busto, diciamo, la parte delle gambe fino al ginocchio, è legato a sessualità non vissuta nel modo giusto. Mentre invece, questa parte qua, la parte del cuore, è legata all'affettività non vissuta nel modo giusto. Roberta Flix, io ingegneria elettronica, Roberta, ingegneria elettronica, che non c'entro con la tua, ingegneria elettronica. Segnali non verbali, ripasso. Massimo, ti piacciono le donne alte o le bassine? Beh, ho fatto un video sull'altezza delle donne. Io sono, diciamo, seguo più o meno, cioè, in generale, dovendo scegliere una donna un po' più bassa di me. E quando si mette i tacchi, non è più alta di me, io sono alto 1,81 m, e una donna che con i tacchi non sa più alta di me. Poi, questo è in generale, insomma. Certo, certo, l'ipnosia progressiva è il ricalco sul futuro, si chiama ricalco sul futuro. La meditazione al seminario di Torino si può fare, non so adesso che meditazione parliamo, sulla pianelle. Perché incontri persone malvagie, Patrizia Guida? Più che altro è da capire perché ti coinvolgi o perché ti coinvolgi con persone malvagie, perché altrimenti basta prendere meccanismi di difesa e basta mettersi, prendere meccanismi di difesa e siete a posto. non ho mai ascoltato questo video, quale è il video? Quante avance? Ma che avance mi hanno fatto? Non le vedo neanche io. Un metro e tantuno, io ho un metro e stantasei. Ah, beh, sei alta, Jessica Naturopata, sei alta, sei alta. Andrea Borobaramo, quando una donna dice che ho freddo le mani mostrando il palmo delle mani si sta sottomettendo? Beh, no, allora, beh, mostrando il palmo delle mani non è detto che si stia sottomettendo, cioè nella stretta di mano, eccetera. Sicuramente se ti dice che ho freddo mostrando il palmo delle mani è un indicatore di interesse perché vuole che tu gliele prenda queste mani e gliele scaldi. Cioè, ti sta fornendo, diciamo così, su un piatto d'argento una opzione di contatto. Si vede che avrà pensato che non sei sufficientemente, diciamo, come dire, reattivo, non capisci sufficientemente i segnali non verbali e quindi ti sta facilitando il compito. Ti sta facilitando il compito. mi arrivano i commenti in ritardo. Cristiana Gori, ciao Cristiana, spero tutto bene, spero tutto bene. e se conosce una cassiera ogni volta si strofina l'avambraccio. Allora, l'avambraccio che è questa parte qua rimanda a, avrà problemi col marito, problemi alla famiglia acquisita. Gli avambracci sono problematiche legate alla famiglia acquisita. se ogni volta che ti vede si tocca l'avambraccio vuol dire che probabilmente avrà problemi col marito o col fidanzato e te lo segnala. Però, devi vedere se è il braccio destro o sinistro. Perché se è il braccio destro se ha problemi col marito causa se stessa. Se è il braccio sinistro se ha problemi col marito causa il marito. Quindi, ecco, era meglio il braccio sinistro per te. era meglio il braccio sinistro perché se la colpa era del marito praticamente se la colpa era del marito era più probabile che potesse tradirlo. Se è il braccio destro invece colpa sua è più difficile. Donne menopausa come comportarsi come conquistare? Vabbè, donne menopausa qua sono tutte menopausa caro Ciuto non ce n'è una che non è menopausa. Oh, ma sempre domanda a me cosa ti attira fisicamente interiormente in una donna? Non mi interessa non mi interessa non mi interessa niente non rispondo non rispondo che mangiava tutti gli zuccheri flannino cristiana gori vale ivi Alessio poi poi l'importante è che il distacco dal risultato ce l'hai nella testa se tu riesci ad attuare il distacco dal risultato nella testa sei a posto Catwoman cosa fare se uno si attacca sul desiderio e sparisce? Se sei sicuro che si attacca sul desiderio e se sparisce come dire vuol dire che tu gli eroti maroni eccessivamente Catwoman se uno stagio su di te risparisce vuol dire che tu gli eroti i maroni o ha trovato un'altra che diciamo si fa desiderare più di te cosa fare se uno stagio abbiamo risposto mani fredde e cuore caldo Sharon Stone la parte superiore dell'orecchio cioè questa ebbè la parte superiore dell'orecchio pizzicarla vuol dire me ne frego dell'affetto è interessante questo segnale però che ci ha detto chi è che l'ha detto la parte superiore Silvia Rossi perché accarezzarsi l'orecchio vuol dire ho bisogno di affetto torturarmi l'orecchio in questo modo vuol dire me ne frego dell'affetto sono superiore all'affetto quello vuol dire ma si lascia nel suo brodo cat uomo lascia nel suo brodo trovati un altro trovati un altro si si vuol dire che se ne frega dell'affetto quello vuol dire ti intrigo troppo ma che intrigo ma il piercing ecco il piercing ecco adesso non è per dire però i piercing i tatuaggi sono tutti fenomeni autolesionistici cioè fenomeni i tatuaggi piercing tutti i fenomeni autolesionistici cioè adesso vabbè una volta c'è negli orecchini ma chi si riempie di buchi chi si fa tatuare di solito un autolesionista toccarsi il sopracciglio che significa è un segnale di rifiuto sopracciglio sopra l'occhio vicino al naso un segnale di rifiuto beh sì un po' masochisti siamo un po' tutti però quanto tempo dedica la meditazione al giorno ma ne faccio una al mattino una alla sera di circa 25 minuti quindi circa 50 minuti circa 50 minuti catuoman 50 minuti un'ora violetta violetta mi rispondi che ho scritto violetta 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 non vedo che ho scritto violetta violetta se qualcuno vede cosa ha scritto violetta violetta non lo vedo mi rispondi ma non vedo la domanda questa cintia zizzi deve essere un troll la mangi la ciccia cosa vuoi dire la mangi la ciccia canetti ciz plaz ciz plaz canetti ciz plaz va bene iscrivetevi al canale della canetti se non sapete cosa fare iscrivetevi al canale della canetti un canale molto interessante un canale molto interessante quello della canetti un bellissimo canale quello della canetti bellissimo canile quello della canetti ah guardi fantasia ma anche la canetti dicevo che Silvia asis Sissi adesso mi trova tutti, c'è l'up dancer qua, Silvia Sissi mi ha attribuito altri fidanzati stasera, prima era la Canetti, poi la mamma della Canetti, poi la nonna della Canetti, poi la zia della Canetti, poi adesso, è esatto Chiara è qua, è qua, ciao Chiara, come stai? E' qua Chiara, poi mi ha attribuito altri fidanzati, non so chi sarebbero gli altri fidanzati, le ragazze cincini, altri fidanzati mi ha attribuito, a parte la Canetti, la mamma e la nonna della Canetti, mi ha attribuito anche, chi è che mi ha attribuito? Altri fidanzati? Non mi ricordo più fidanzati, non mi ricordo più chi erano, chi erano. Ah, Wonder Roby, Baghera, la Margasciona, esatto, esatto, esatto. Anche Catwoman, anche Catwoman, anche Catwoman ha volontà la mia fidanzata, esatto, esatto. E sì, è Chiara, Sitz, 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 Plaz, è lì che si dice, Plaz, Plaz, aspettate che, Plaz, ho sistemato la Canetti, ho sistemato la Canetti, Plaz. Si stava alzando, l'ho sistemata, l'ho sistemata. Va bene, va bene, Plaz, Plaz, Canetti, Plaz. Il bai non funziona, la Canetti. Va bene, detto questo, Plaz, Sitz. Nel bagno è rotto, nel bagno è rotto, la Canetti. Tiziana Bianchi, sei fidanzato? Mi sono fidanzato con te, Tiziana Bianchi, non ti ricordi? Ci siamo fidanzati ieri e adesso sono fidanzato con te. Bene, dai, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti sotto il divano. Sitz, Plaz. Allora, vi ricordo ancora gli appuntamenti. Torino, venerdì 22 febbraio, ore 21. Milano, domenica 3 marzo del 9.30.19. Roma, 7 febbraio del 9.30.19. E il riferimento è sempre al 333, 15, 11, 7.03. Un giro di campana, ma c'è la vicina, che sono le 11.30. Domani faccio il giro di campana, domani il giro di campana. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti e ci vediamo domani con la campana. Elena Spini, 333. Baccheca, zitta, zitta, baccheca, splatz, splatz, baccheca, platz. Va bene, un saluto a tutti e a domani, a domani. Ciao a tutti.